che rumorenda che io mo che analisi faccio ditemi qua che analisi vedevo fa sono qui davanti questa telecamera in vacanza in sicilia guardate qua sto morendo di caldo è uscita pure la live reaction quindi andatela a vedere qua sopra nelle schede mi raccomando qua a fine video ma ditemi e ve la lascio pure bloccata nel primo commento ma io che post partita faccio mo che dico una Roma vomitevole raga scusate una Roma imbarazzante una Roma che gioca da cani giocavamo da cani veramente uno schifo io voglio vedere quest'anno quello che mettiamo in campo cioè come vogliamo scendere se parca miseria se coltoloso non sei riuscito a far due hai fatto all'ottantacinquesimo minuto praticamente hai fatto il terzo tiro in tutta la partita una roba una roba vergognosa oggi abbiamo stra meritato te perde oggi il tolosa sceso in campo meritava la vittoria perché tu oggi non hai fatto non hai fatto due palleggi due palleggi un lancio l'unico l'unica bella occasione è stato il gol di dibala su punizione magistrale chapeau per paolo dibala perché io dico come fa uno come paolo dibala a giocare da noi ma come fa ma chi lo fa fa un fenomeno dibala un fenomeno che gioca da noi è assurdo io io posso o posso solamente con con continuare a coccolar me lo finché veste la maglia di questi colori o me lo coccolo me lo me l'abbraccio lo amo e lo continuo a di però siamo una squadra veramente senza un briciolo di dignità del gioco un de divertimento ma divertite non amichevole ma manca divertive ma che stimoli vedrà al pallone raga ma che a loro che stimoli vedrà al pallone se non si divertono contro in questi amichevoli dove devi tirare meglio vedete devi divertire devi non so manco si diverte la roma veramente scesa in capo a fare contro voglia non voleva giocare oggi se vedeva una roma che non ha voluto non è voluto ascendere in campo questo è il sunto della partita ciao ragazzi e bentone in questo video qui già più al soli sembrano qui ragazzi non novito sfogo posso dirlo sfogo perché io sto in sicilia mi metto qui a vedermi la roma devo vedere sto schifo e poi dici mencavolo menca pure moro un po no questa non la posso rompere non la posso rompere perché non è mia non la posso rompere io mi sfogo lo sapete perché non perché hai perso non perché ma perché ho buttato due ore del mio tempo per vedermi sto schifo ma è possibile ma io posso anche capire che perdi ma quanto meno fammi avere due tagli due lanci qualche qualche tiro in più cioè tu all'ottantesimo hai fatto il terzo tiro ottantacinquesimo hai fatto il terzo tiro della parte bassa già solo questo tu in 85 minuti hai fatto tre tiri già può essere il riassunto del post partita vi invito a lasciare un mi piace per supportare questo video vi ricordo questa settimana non usciranno tantissimi contenuti quindi 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 quei pochi che escono ragazzi supportatoli e ovviamente recuperate i scorsi video perché è importante visto che non c'è questa settimana caricherò pochi contenuti recuperate quelli vecchi vi trovate qua sotto nella scheda a fine video mi raccomando e cose importante lo dico subito seguitemi su instagram vi lascio qua sotto sempre in descrizione insieme a tutti gli altri link dei social ovviamente sto postando tutti i giorni storie e post quindi venitemi a seguimi mi raccomando già piozz parliamo da roma possiamo di due parole oggi hai fatto praticamente la roma ha giocato dal loro hanno segnato il gol al quinto minuto dall inga quindi dal quinto minuto fino al 26esimo ha giocato la roma quindi praticamente 16 minuti no che dico 21 minuti la roma ha giocato 21 minuti 21 come il 21 di dibala tra l'altro 21 minuti e poi questa è stata l'assunto della roma secondo tempo zero verticalizzazione zero lanci zero niente hai fatto un gol sul pala inattiva su punizione che che riassunto che devo di su sta partita facciamo ride quest'anno dove vogliamo andare ci vogliamo provare almeno andare in c'è prova non vuol dire che a roma voglio che a roma va in c'è magari magari ma quantomeno fate vedere la lotta c'è una pruna roma che prova andare in c'è magari si sforza io non so quest'anno non 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 si immagina quello che possiamo fare quest'anno prima partita in sotto roma salernitana mu vedremo un altro sold out complimenti oggi ai tifosi che stavano lì a vedere se sta amichevole c'erano tanti tifosi romanisti lo stadio era pieno fatemi sapere che ne pensate della partita di oggi a roma io ti do il video il prima possibile perché devo uscire stasera ovviamente sto in vacanza sono in sicilia se si chiabedda mi devo vedere sta sta roma così veramente e vabbè sempre comunque forza roma però voglio sapere la vostra come vedete voi la roma cioè come l'avete vista per quelli che l'hanno vista partita avete vista la partita o stava dal mare mi auguro che stava dal mare dai andate a vedere le lights anzi già per quello che v'ho detto io nel post partita veramente la roma è un re orrenda vi saluto ciao ragazzi sempre comunque forza roma forza il calcio vediamo se magari arriva un colpa sorpresa non ho fatto il video su roger e i bagnets in arabia sodita lali lal fatemi sapere se lo volete ma che cioè me devo comprare la bottiglia di uno sfumante quindi non ce l'ho quando quando compro la bottiglia di uno sfumante faccio il video sui bagnets allali lal video festeggiamenti detto questo vi saluto vi ringrazio sempre comunque forza roma iscrivetevi e alla prossima ciao ragazzi ciao bella vamos se si già bedda almeno quella almeno fatemi con delle vacanze forza roma ciao